Infatti il nuovo viadotto Simeto si para davanti ai nostri occhi in tutto il suo splendore e allora buttiamoci in questa nuova opera, nuova tra virgolette, appena ammodernata. Eccoci qua, viadotto Simeto 2250 metri, viadotto che è stato ammodernato per diversi mesi e che è stato portato a termine, terminato con successo dopo diverso tempo, esattamente due settimane fa. Dall'altro lato il viadotto Simeto è già ammodernato in precedenza, l'ammodernamento riguardato la ristrutturazione della struttura del viadotto, quindi le pile e gli imbalcati del piano stradale e ovviamente la stesura di un nuovo manto d'asfalto è l'ammodernamento delle barriere con dei modelli più moderni e anormali. Devo dire che è stato fatto veramente un ottimo lavoro, come possiamo vedere. Siamo al chilometro 178, ormai manca poco a Catania. e ci avviciniamo alla spalla est, cioè la spalla catanese del viadotto Simeto per raggiungere tra ormai solo 3 chilometri e 100 metri lo svincolo di Motta. Motta Santa Anastasia, cittadina del piano di Catania, situata al sud di Mister Bianco, per raggiungere diverso